Eccoli, eccoli, si stanno preparando ed è quindi con grande attesa che salutiamo l'arrivo dell'Associazione Musicale e Culturale di Cigno Retice di Patrica. Loro arrivano da Trosinone, un grande applauso! Grazie! 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 Associazione Musicale di Cigno Retice di Patrica, Rosinone, Lazio! Grazie! 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 Maestro! Complimenti! Associazione Culturale di Signore Fice di Patrica! Grazie! 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 olio nell'antico casale dei bandini, questa nostra terra così prosperosa che produce davvero degli olips trepitosi e che dire, ancora grazie e complimenti, buona serata a domani, grazie a parla. Le percussioni già le sentiamo e questa che sta per entrare è la banda musicale vicino retice di Patrica, Italia. Grazie. 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 Complimenti, complimenti alla banda musicale del Signoretto di Patrica, Italia! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!